signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae e il vostro ospite su questo canale e andiamo avanti con la nostra serie estiva questa settimana parliamo di un argomento molto importante che riguarda la lore della vostra ambientazione intesa come informazioni generali che stanno dietro il mondo immaginario e il rapporto che ha poi con i giocatori che effettivamente giocano in quel mondo come abbiamo fatto per il video la settimana scorsa anche questa settimana prenderemo come esempio una delle fazioni che sono state proposte per l'ambientazione collettiva della community e ci faremo aiutare da dave di fabula crew studio per rappresentare visivamente quello di cui stiamo parlando e per rendere le cose ancora più complicate questa volta andremo a collocare le idee che sono uscite dalla community per creare una fazione ma non da inserire nella geografia del nostro mega dungeon ma da inserire nella cronologia del mega dungeon ne abbiamo già parlato brevemente nel video del mega riassunto se ve lo siete persi ve lo lascio qua in alto andate a recuperare non starò a ripetermi come al solito però abbiamo detto che quando andate a sviluppare un ambientazione non è importante collocare solo le cose nello spazio ma anche nel tempo del vostro mondo di gioco il mondo di gioco nella realtà viene generato dal nulla e inizia a esistere nel momento in cui inizia la vostra campagna e i giocatori per la prima volta descrivono agli altri il proprio personaggio ovviamente il mondo di gioco non esiste e la sua unica funzione è quella di permettere ai giocatori di avere un luogo immaginario in cui vivere la loro avventura e quindi far muovere i personaggi il fatto però è che lo scopo principale del mondo di gioco è quello di garantire la verosimiglianza delle azioni dei giocatori cioè dare ai giocatori l'impressione che quello che fanno i loro personaggi abbia delle conseguenze e vada a influenzare l'ambiente intorno a loro per mantenere questo senso di verosimiglianza però il mondo di gioco non può sembrare qualcosa che viene inventato volta per volta ed esiste solamente perché i giocatori possano farci le loro cose dentro anzi deve dare l'impressione di essere qualcosa di molto vasto molto esteso e soprattutto la cui esistenza non è legata ai personaggi giocanti ma anzi il mondo di gioco era già lì e i pg non sono altro che una parte della sua storia di conseguenza quando ho creato il mega riassunto per le fazioni dei coloni quelli che sono arrivati nella seconda ondata nel mega dungeon dopo che il mega dungeon è stato scoperto la base di partenza del lavoro è stata appunto questa frase dopo che il mega dungeon è stato scoperto tutto quello che è stato descritto prima era virtualmente immutabile da eoni è stato detto che il mega dungeon è vecchio di migliaia di anni ma nella pratica il mega dungeon era sempre esistito uguale a se stesso quel migliaia di anni era semplicemente qualcosa che veniva detto per mantenere la verosimiglianza era un ambiente statico immutabile ma da questo evento cioè il mega dungeon viene scoperto noi possiamo cominciare a tracciare una cronologia da quel momento esistono cose che sono solvenute dopo e cose che in realtà c'erano già prima tutte le varie proposte quindi invece di essere valutate in base al dove metterle nel mega dungeon sono state valutate in base al quando cioè da quale momento questa fazione o questo evento esiste nell'ambientazione rispetto al nostro punto zero cioè la scoperta del mega dungeon ora voglio premettere che il metodo che ho utilizzato nello specifico questa volta è molto utile ma non sempre è la cosa più veloce da fare e potrebbe aumentare tantissimo il vostro lavoro nel nostro caso però era l'idea migliore a prendere in considerazione per due motivi principali primo e più importante di tutti è quello che la colonizzazione del dungeon è un evento estremamente recente nessuna delle proposte ha mai citato nello specifico delle date ma tutti hanno elencato una serie di png e nella stragrande maggioranza dei casi quei png hanno fatto azioni importanti nel dungeon e veniva dato per scontato che fossero ancora vivi e attivi al suo interno ora il nostro è un mondo fantasy quindi già di per sé si dà per scontato le persone vivano più di quello che facevano realmente in un periodo storico analogo in più è pieno di razze e specie che hanno aspettative di vita del tutto incredibili un elfo può raggiungere tranquillamente quasi il migliaio di anni però a noi torna molto comodo che gli eventi siano comunque molto recenti perché ci dà una mano su un paio di aspetti importanti principalmente perché questo vuol dire che se gli eventi sono recenti e sono avvenuti nel corso e la vita della maggior parte dei png i giocatori avranno la possibilità di raccogliere informazioni relativamente accurate da qualunque png incontri no senza che queste siano qualcosa di estremamente oscuro o che siano state contaminate da secoli di miti leggende e dicerie anche se non vuol dire che le informazioni sono necessariamente accurate anzi ognuno avrà il suo punto di vista ma sarà il punto di vista di una persona che era effettivamente presente ai fatti e racconterà le cose come lui le ha interpretate quando le ha viste non come gli è stato raccontato contemporaneamente rende anche più verosimile un altro troppo molto classico del gioco di ruolo in generale e del genere action adventure in particolare è probabile che sia i giocatori che il master si aspettino che i personaggi giocanti facciano parte dei personaggi più significativi all'interno della storia del dungeon e che le azioni che loro intraprenderanno nel corso della campagna stravolgeranno l'ambientazione cambieranno il destino alle persone o quello che è che il dungeon sia ragionevolmente recente rende più verosimile questa cosa sì i personaggi giocanti saranno gli ultimi arrivati ma in realtà hanno uno stacco di sole qualche decina d'anni rispetto ai primi arrivati tutto è ancora in divenire ha perfettamente senso che loro lascino a loro traccia nella storia del dungeon pensate a quelle classiche storie in cui il regno è esistito virtualmente immutabile per duemila anni e poi gli arriva un gruppo avventurieri cambia uno sconvolgimento totale nell'arco di quattro settimane di tempo di gioco il secondo fatto che ha reso molto utile applicare un metodo storiografico è quello che è dato che questa è proprio un'ambientazione collaborativa quindi è stata scritta da molte persone all'interno della comunità del master cae il materiale che è arrivato sulle fazioni è stato veramente ma veramente molto mettendo assieme ogni singola proposta arrivata abbiamo più di 20 fazioni molte delle quali estremamente dettagliate c'è persino che ha fatto una specie di mini libretto di presentazione ovviamente stiamo parlando di qualcosa che non è lo standard per un gruppo di gioco di quattro giocatori che giocano tra amici io mi sono trovato nella situazione ambivalente di avere l'imbarazzo nella scelta in quello di inserire da dove reperire idee perché c'era veramente tanto materiale ma il materiale era talmente tanto che se io avessi provato a inserirlo tutto o anche solo inserirne la maggior parte come se fossero varie fazioni separate ognuna con la sua logica e un suo retroscena un ipotetico master che dovesse masterare questa campagna e i suoi poteri giocatori avrebbe avuto estremamente difficoltà a fornire loro organicamente tutto questo materiale veramente sarebbe stata tanta roba da dire e quindi troppe informazioni da ricordare per i giocatori inserendo i vari gruppi in ordine temporale però e facendo in modo che i gruppi più recenti derivino da quelli più vecchi la quantità di informazioni per singola fazione diminuisce notevolmente nel nostro caso i coloni del secondo strato dipendono in larga parte dalla rivolta dei minatori del primo strato e dall'originale gruppo mercenario delle bande rosse questi due gruppi originali unendosi tra di loro e poi ridividendosi hanno formato i vari gruppi sia la città di libertalia che quella di arcadia che sono le due macro fazioni del secondo strato che però hanno una larga parte della storia in comune di collaborazione tra i loro quindi una volta che i giocatori avranno raggiunto la città di libertalia e parlato le bande rosse molto di quello viene detto varrà anche per la fazione degli arcadiani e allo stesso modo praticamente tutte le bande di predoni del terzo strato dipendono da quell'originale rivolta dei minatori quindi una volta introdotto il concetto di rivolta dei minatori quando arriverà la banda di predoni di questa settimana il master dovrà semplicemente specificare in che modo questi specifici predoni si allontano dall'archetipo di predone che era già stato stabilito parlando dei minatori in pratica molte delle fazioni condividono la stessa lore e quindi c'è meno informazioni che il master deve dare per renderle verosimili all'interno dell'ambientazione c'è poi un altro aspetto molto importante da sottolineare dato che tutti questi eventi sono come abbiamo detto recenti e sono avvenuti durante la vita della maggior parte dei png c'è una buona possibilità che i giocatori durante la loro esplorazione facciano in modo che i loro personaggi incontrino png che gli potranno dare informazioni più accurate questo lo abbiamo detto ma probabilmente saranno interessati a incontrare i png che sono stati protagonisti di questi eventi perché sono ancora vivi in realtà gli ucce sugli avvenimenti non sono così lontani nel tempo quindi ognuno di quei png non solo è ancora all'interno dell'ambientazione ma probabilmente sta vivendo le conseguenze delle azioni che ha fatto questo può aiutare molto i giocatori perché non solo li fa sentire parte della storia del dungeon che effettivamente si sta ancora dipanando intorno a loro ma gli dà anche degli esempi concreti proprio di come un singolo personaggio un singolo gruppo di personaggi possa andare a influenzare in maniera anche estrema l'ambientazione che poi è proprio quello che ci si aspetta dal gruppo dei giocatori tra l'altro questo porta anche a rivedere i vari png che sono arrivati con le proposte anche in questo caso c'erano più di 50 in totale però adesso che abbiamo la storia per ognuno di essi comincia a emergere spontaneamente anche una storia personale cioè dove erano e in che modo hanno contribuito all'evoluzione di questa storia alcuni di loro saranno poco più delle comparse altri invece diventeranno personaggi estremamente importanti e uno di loro è diventato qualcosa che va al di là del singolo png importante perché è diventato un vero e proprio cardine dell'ambientazione e quindi è arrivato il momento di chiamare dave perché avremo bisogno di lui per parlarne quindi dave di chi parliamo oggi allora questa settimana parliamo di dagor mcfarlane il capitano delle bande rosse e mi sono concentrato sul suo personaggio perché potevo così parlare di appunto narrativa tramite illustrazione tramite disegno perché a volte si dà per scontato ma in realtà tutti i personaggi soprattutto protagonisti di videogiochi fumetti e quant'altro parlano attraverso il loro personaggio attraverso gli oggetti che loro hanno addosso faccio un esempio stupido noi andiamo a prendere uncharted e il protagonista è vestito in un determinato modo e quindi è vestito da esploratore è vestito con qualcosa che gli permette di fare salti di arrampicarsi personaggio action ma magari addosso anche una bussola che ci dice già che appunto è abituato a andare in posti sconosciuti a perdersi magari nella giungla nella savana non lo possiamo sapere però altri dettagli magari ci dicono esattamente dove tende ad andare nel senso un capello da esploratore dell'ottocento ci porta già in africa difficilmente confonderai mai nato andrei con baionetta mettiamola così esattamente e e quindi questo è la narrativa tramite immagini una serie di dettagli che ci parlano il personaggio in maniera silenziosa ok e allora come metto altavolta tu hai ricevuto tutto il materiale sui coloni hai ricevuto il materiale sulle bande nere qual è stato il tuo processo per arrivare da una serie di parole scritte a rappresentare fisicamente il nostro dagon certo allora innanzitutto io ti ho chiesto alcuni alcune parole chiave secondo la tua idea di quello che poteva essere l'ambientazione e tramite quello che anche tu avevi letto del mega dungeon mi hai dato alcuni spunti per esempio fine del 700 mi hai parlato di di quel periodo storico se vuoi dire allora il guarda nessuno delle proposte segnava una data specifica un riferimento col mondo reale specifico o un effettivo livello di sviluppo tecnologico e sociale però mettendo insieme tutte le proposte quello che è perso evidente che molti hanno parlato tutti hanno parlato che nella superficie ci sono stati nazione non semplicemente i regni o i signori feudali ci sono tipo la gilda della corona è un consorzio tra l'altro multinazionale quindi lo sviluppo economico non è quello del mediaevo è molto più avanzato si parla di esplorazione ma soprattutto si parla di estrazione delle risorse quindi palesemente il mondo fuori dal dungeon sta attraversando il suo periodo coloniale ma non solo quello poi tutta la fazione sia le bande rosse ma diciamo i coloni all'interno del dungeon hanno appena iniziato i moti rivoluzionari dati da quella che in tutto e per tutto è la lotta di classe loro stanno cercando di avere più diritti di quelli che gli stati li concedono e se mettiamo tutto questo assieme noi abbiamo un periodo storico molto preciso per l'umanità che è quello della fine settecento inizio ottocento e per rendere tutto quello che ho appena detto a parole in una singola immagine ecco quando voi vedete personaggi come questi non è che devo spiegarvi da dove vengono ovviamente quello è il periodo storico di riferimento e da questo potete capire già da soli ok quale sarà il loro livello tecnologico probabilmente hanno armi da fuoco anche se non così sviluppate probabilmente oltre all'economia di cui abbiamo parlato avranno anche determinati diritti civili determinate conoscenze mediche che tutte possono essere molto facilmente inferite cioè lo capite da soli quando vedete semplicemente vedendo come va in giro vestita la gente detta molto semplicemente esattamente infatti tu mi hai dato questo spunto e io nella mood board ho cominciato a inserire abiti del fine settecento inizio ottocento e diciamo che questa è stata la prima base su cui mi sono mosso dopodiché però mi avevi detto anche un'altra informazione importante ovvero che le bande rosse si comportano in una maniera riconducibile anche ai pirati sì quella è stata un'altra cosa che è saltata fuori dal mettendo assieme tutte le informazioni ci sono un sacco di riferimenti ai pirati tra l'altro le bande rosse di libertalia libertalia è la famosa città dei pirati del madagascar quindi sì tra l'altro i pirati sono anche molto on topic su questo periodo storico almeno i pirati come ce li immaginiamo dei romanzi fantasy certo noi comunque ci stiamo muovendo in un contesto fantasy quindi tutte le mie reference sì sono prese da contesti storici almeno quelle del vestiario però poi io avevo libertà di movimento perché potevo creare qualcosa di nuovo qualcosa di mai visto allora avevamo messo giù la base in generale a quel punto io posso andare a raccogliere varie informazioni visive da altri contesti sia quello piratesco però dopo io ho cominciato a pensare nella mia testa a quanto sarebbe interessante se fosse un abile spadaccino e quindi questo è un passaggio che ho fatto da solo ok non c'era nessuna informazione a riguardo però mi piaceva l'idea e quindi ho cominciato a raccogliere reference di spadaccini moschettieri un po' il cappa e spada in generale poi sono mercenari ci si aspetta che il loro capo sia in qualche modo bravo a menare però qua nella mood board hai fatto anche uno studio della scrittura delle lettere sì ma quello è per una sorpresa che vedremo dopo perché io non volevo sovrapporre quello che era la divisa delle bande rosse con quella di arcadia essenzialmente e quindi a breve ci arriviamo ok credo aver capito vai fuori grazie comunque giusto per ricollegarci al discorso il tutto mi ha portato a immaginare un personaggio cappa e spada con dei vestiti fine ottocento e alcune delle reference mi danno anche l'idea di quello che può essere il suo atteggiamento sprezzante sicuro di sé e comunque essendo un capitano di una banda di questo calibro deve sapere quello che fa essenzialmente quindi secondo me quello era il suo giusto modo di approcciarsi ok quindi McFarlane il capo dei rivoltosi delle bande rosse è uno che ci sa fare ok sì questo diciamo che è molto in linea col personaggio per come è stato descritto allora visto che tutto il processo ormai lo abbiamo visto l'altra volta qui ho fatto semplicemente un riassunto di tutto di tutti i passaggi ho semplicemente usato un approccio leggermente diverso per la fase di silhouette le ho fatte in versione sketch piuttosto che in versione ombra nera ho fatto uno studio tonale del personaggio per vedere quali parti sarebbero poi risultate scure chiare per avere un buon contrasto fra i colori e come avevo anticipato prima ho fatto anche delle varie proprie colore ma soprattutto ho anche deciso quale sarebbe nel caso un possibile combinazione di colori per Arcadia in modo da non andare a... gli arcadiani hanno la nera in campo rosso perché sono degli altri peri probabilmente però che se abbiamo anche la realtà alternativa in cui si sono uniti tutti in una fazione o un possibile schema di colore anche gli arcadiani avranno i loro menatori però vedo che poi alla fine le bande rosse hanno una preponderanza di rosso che sorpresa giustamente le bande rosse hanno una preponderanza di rosso e sono andato a contrastare con il colore giada anche già presente nelle pietre nei minerali magici del Mega Dungeon perché di alcune scelte ora, secondo me è interessante vedere come alcuni dettagli ci possono parlare del personaggio per esempio io ho dato una pergamena che sta quasi stracciando in mano tenuta saldavente con sicurezza perché quello che volevo che si vedesse era anche una cosa che è successa se non ricordo male dal punto di vista di storia quando lui ha strappato il contratto diciamo esatto volevo dire rescisso il contratto volevo dire cambiato le regole del contratto però sì è quello che ha fatto e quindi ci passa direttamente già quel suo modo di fare i contratti lui li rispetta anche finché non non gli passa la voglia ecco non vede qualcosa di più interessante a quel punto i contratti hanno poco poca importanza e quindi lo tratta e lo tiene in una maniera sprezzante poi per esempio si possono fare delle ipotesi sulla sulla borraccia che tiene alla cinta si potrebbe scrivere che per esempio è un amante di alcolici e che questo sia per esempio uno dei modi a livello di roleplay per ingraziarselo ad esempio e quindi un ottimo spunto per un master che vuole creare una sotto quest oppure per un giocatore che vuole provare a creare un rapporto di di commercio o di tra l'altro in ambientazione si c'è che loro devono comunque supervisionare le importazioni quindi che che gli arrivi un bel po' di casse di grog per lubrificare il commercio non è così insensato e poi questa è una cosa comune anche alla scrittura proprio creare un personaggio con delle debolezze per esempio lo rende molto interessante quindi si è un forte spadaccino però è uno facile alla bottiglia ecco tra l'altro qua devo dire una cosa io che quando mi ha fatto vedere per la prima volta l'immagine io sono rimasto sorpreso di una cosa perché lui la banda rossa la tiene in realtà in maniera storicamente atturata come fascia alla cintura io ho sempre dato scontato che le bande rosse le bande le portassero letteralmente al braccio che però è più una cosa novecentesca questo è uno degli esempi per cui l'illustrazione può anche sovvertire delle cose ed effettivamente migliorare il personaggio e migliorare la sua integrazione ti ringrazio col migliorare però sì effettivamente c'è tanto di questo perché giustamente la mia visione personale data dalla descrizione sarà comunque sempre diversa dalla visione di qualcun altro e quando tramite l'illustrazione si va a definire questo si sa che al pubblico poi stai dando la versione definitiva di quella cosa lì quindi c'è anche un certo una certa responsabilità perché io so che ora magari non tutti ma gran parte se lo immagineranno in questo modo il personaggio K e spada sicuro di sé quando magari prima di questa illustrazione dalle descrizioni queste cose non apparivano sì adesso diciamo che diciamo che i personaggi dopo che il master ha tirato fuori l'immagine prima di essere arroganti nei suoi confronti quando andranno a parlarci probabilmente ci penseranno due volte è anche bello il dettaglio che l'attesa del cappello gli arriva dritta dritta sugli occhi che vagamente è un riferimento western ma ci sta molto per il tipo del personaggio ma in realtà anche il riferimento western è voluto nel senso che nella mia idea ho visto un personaggio pronto a duellare e comunque la silhouette ricorda anche un personaggio western cioè se avessi tolto alcuni particolari gli avessi messo una pistola in mano avresti visto subito un personaggio western quello di mezzo è molto più ispirato all'epopea americana più che ai pirati dei canali che comunque ci sta ma in realtà loro sono in realtà tutti questi personaggi qui sono un misto di vestiario di fine settecento ottocento con un po' di cose piratesche ma quello che è interessante è che a volte questi misti portano a a concept che noi conosciamo già a volte è anche difficile non non incapparci per sbaglio essenzialmente ebbè everything is a remix ogni buona idea l'ha già avuta qualcun altro quindi da quello non si può uscire va bene allora grazie per questo io vi lascerò poi tutte tutte le illustrazioni sul server discord dovreste poi usarle per le vostre quest grazie Dave per tutto l'enorme lavoro che hai fatto grazie a voi noi ci vediamo la settimana prossima ma di questo parliamo tra un attimo perché in realtà se vogliamo parlare di questa ambientazione come se fosse un vero e proprio lavoro che deve essere presentato professionalmente abbiamo ancora due passaggi importanti da fare ma per quelli aspetteremo la settimana prossima perché le cose vanno fatte con calma fino ad allora come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto come voi vi sareste applicati alla cronologia alla rappresentazione dei personaggi e fatemi anche sapere cosa ne pensate della rappresentazione che Dave ha fatto del nostro PNG Cardine anzi vi lascio i suoi contatti qui sotto così lo fate sapere direttamente a lui ovviamente questo non era l'unico modo in cui la storia poteva essere raccontata magari la gilda e la corona insieme agli excelsior potevano facilmente sconfiggere le bande rosse quindi adesso la zona centrale sarebbe un unico stato di polizia o magari gli autoctoni gli uomini di lucertola di cui abbiamo parlato ai video precedenti potevano opporre una resistenza molto molto più efficace e magari non ci sarebbe mai stata alcuna colonizzazione del dungeon gli esploratori starebbero ancora vagando nel labirinto ghiacciato del primo strato o magari sarebbero stati gli uomini di lucertola a invadere i regni nella superficie quindi fatemi sapere come voi avreste gestito la cosa e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi per ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal gruppo i telegram dove metto io gli annunci dei video manualmente e dove si raduna anche il resto alla communica e poi sono le persone che tirano fuori le idee dietro questi video per il resto come sempre io sono il master che è e noi ci vediamo nel prossimo video